Adesso vi presenterò Sparkle che gli farò l'intervista Cordiali saluti! Allora, Sparkle, ti piace andare a scuola? Come si? Gli piace, gli piace Allora vai al posto mio! Guarda che annunisce! Allora, domani vai al posto mio Seconda domanda Ti piace il passato di verdure? Dici di no Non le piace Ultima domanda Ti piace il primo libro Las Lunas, La mia vita da sirena? Dici di sì Urca se gli piace! Tanto! La mia vita da sirena, il primo libro Las Lunas Preordinalo online dal 6 giugno in tutte le librerie